Siamo qui con Marco Gerubini, l'allenatore del League of Aprilia, partita giocata bene, come vede questo risultato? Il risultato ci può stare, nonostante che comunque ce la siamo giocata fino alla fine, con una squadra che sicuramente dirà la sua nel campionato. Non eravamo tutti, mancavano tre persone che comunque per noi sono fondamentali, la partita la potiamo vincere, la potiamo perdere, è andata così, insomma ci dobbiamo rimboccare le maniche per la prossima. Va bene, le auguro un buon proseguo di campionato. Siamo qui con l'allenatore della Lene Nettuno, vittoria meritata, quale obiettivo si presuppone per questo campionato? Nove punti in quattro partite? L'obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto, cercare di giocare ogni partita meglio e vediamo giornata dopo giornata a che punto arriviamo. Oggi abbiamo trovato una squadra abbastanza organizzata nella fase difensiva, infatti la partita è stata tirata fino alla fine e gli episodi hanno, è il momento di essere risolta la partita con gli episodi, insomma. Perfetto, ringrazio. Siamo qui con De Petris, autore di una doppietta, settimo gol in campionato. Quali sono gli obiettivi che vuole appunto raggiungere lei a fine stagione? Allora, per quanto riguarda gli obiettivi individuali, ne ho pochi, penso più alla squadra. E comunque è stato importante oggi vincere, perché la prima l'avevamo persa in casa, veniamo da una bella vittoria, perché comunque sabato scorso è un campo difficile. E niente, oggi ci siamo confermati, sono ovviamente contento per i due gol e adesso niente, testa alla prossima. Lunedì abbiamo la Coppa ed è importantissimo fare bene anche lì. Siamo qui con Gianluca Masullo, portiere dell'Igolz Aprilia. Nonostante la sconfitta, quali sono le cose positive da prendere da questa partita? Il carattere che abbiamo tirato fuori sicuramente nel secondo tempo, che abbiamo iniziato un po' a giocare, a girare la palla. Purtroppo oggi eravamo contati, mancanze importanti, mancava il capitano. Alcuni giovani erano fuori per problemi personali, quindi ci sono mancati un po' i cambi, soprattutto, eravamo un po' contati, però alla fine abbiamo tirato fuori il carattere, ma loro avevano più energie e alla fine il campo ha parlato. E' un momento loro.